Ben tornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Anatoly Tsubai è stato immediato trasportato in ospedale mentre era in vacanza in Sardegna Dopo l'invasione dell'Ucraina ha criticato Putin e ha lasciato la Russia Insensibilità a mani e piedi e impossibilità di muoversi tanto da richiedere un immediato trasporto in ospedale mentre era in Sardegna Sono gli improvvisi sintomi accusati da Anatoly Tsubai, magnate russo che per anni è stato braccio destro di Putin prima di lasciare il paese dopo l'invasione dell'Ucraina Sintomi particolari che hanno fatto scattare subito un campanello di allarme per un possibile avvelenamento visto che Tsubai, l'uomo delle privatizzazioni degli anni 90 in Russia, ha criticato il presidente russo sulla guerra in Ucraina e lasciato Mosca dopo l'invasione a maggio Dopo essersi espresso pubblicamente contro la guerra a Kiev, l'ex imprenditore ed altissimo funzionario russo, infatti, aveva lasciato il suo paese trovando rifugio proprio in Italia dove può contare su diverse proprietà Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video